Il Messaggero Veneto ha stabilito la squadra dei nostri undici di promozione e prima categoria che il 20 dicembre alle ore 15 in diretta su Udinese TV affronterà la formazione primavera dell'Udinese. È una squadra che tutti gli allenatori vorrebbero avere, per una volta, a propria disposizione mettendo in conto di dover forse penare per arginare la personalità di qualcuno data la grande mole di talento a disposizione. È un 3-4-3 ricco di qualità, quello che è espresso dallo scorso campionato di promozione nel quale fanno parte anche un paio di giovani di cui si sentirà a lungo parlare in futuro. In porta c'è Luca Nicodemo, classe 92, portiere del fiume Veneto-Bannia. Protetto dalla difesa, ha contribuito alla salvezza nero-verde, togliendosi lo sfizio di fissare il primato di imbattibilità stagionale con 770 minuti tra l'ottava d'andata e la prima di ritorno. I difensori sono Nicola Bucciol, classe 97 del Torre, fuori quota, entrato anche nell'orbita della rappresentativa regionale, ha tratto grande giovamento dai consigli del mister Michele Giordano, divenendo ben presto una colonna della retroguardia viola. Andrea Racca, classe 88, della Juventina. È cresciuto nella Progorizia e nell'Ital San Marco e da anni è uno dei difensori più affidabili della regione. Sulla sponda bianco-rossa del Lisonzo ha trovato la sua consacrazione sotto la guida di Nicola Sepulcri. Michele Ciriaco, classe 86, della Val Natisone. Polmoni inesauribili e senso tattico fuori dal comune. Dopo aver fatto le fortune di Manzanese e oltre, sta provando ora a portare i portacolori di San Pietro Natisone nell'élite regionale. A centrocampo, Eros Pavan, classe 92 del Lignano. Ha vinto con la Pro Cervignano, contribuendo con 15 reti a rendere tranquilla la stagione del debutto sulla panchina di una prima squadra di Gabriele Pozzar. Finalmente continuo rispetto ai trascorsi, al Torviscosa e al Crass. Giovanni Anese, classe 98, della Spal Cordovado. Sepul giovanissimo, ha saputo interpretare con autorevolezza il ruolo di centrale della mediana. Ne ha tratto giovamento l'intero complesso allenato da Luciano Benetti, arrivato ai play-off anche grazie alle tre segnature del suo pupillo. Matteo Dalcin, classe 90 del Casarsa, regista dalla visione di gioco sopraffina maturata nell'esperienza la Sacilese. Anche 36 presenze e due reti in serie C2, oltre che al Fontana Fredda in seguito. Il calo, nel finale di stagione, non ne ha offuscato la classe cristallina. Luca Salger, classe 82 del Brian Precenicco, che sembra non voler mai tramontare. Ciccio, a rispetto dell'infinito dispendio di energie profuso per anni in serie D, arrivando a giocare 14 gare in serie C2 con l'Italas San Marco nel 2008-2009, è impiegabile in tutti i ruoli della mediana e ancora fa la differenza, essendo una manna per gli allenatori che lo hanno avuto a disposizione. Gli attaccanti sono Lorenzo Violo, classe 89 del Pravis Domini, che ha vinto con l'Union Pasiano, contribuendo con 24 segnature alla seconda promozione consecutiva dei Rosso-Blu. Brevi lineo, con tre scorsi anche in Veneto, ha nello spunto in velocità la sua arma migliore. Alessandro Cusin, classe 92 del Lignano, rientrato in giallo-blu dopo tre anni al Bibbione e due alla Fossaltese, ha dimostrato di aver concluso il percorso di maturazione che ne hanno fatto un attaccante completo, fortissimo di testa e nell'attaccare gli sparsi. Le 25 reti che ne hanno fatto il capo cannoniere del girone A sono state determinanti nella promozione dei gabbiani in eccellenza. Simone Basso, classe 86 della Profagagna, protegge la palla come pochi e nelle ultime tre stagioni ha realizzato 67 reti in campionato, trovando continuità realizzativa di primo ordine. Se nella passata stagione la Profagagna ha evitato la prima retrocessione in prima categoria della riforma del 1991, lo deve soprattutto alle sue 20 pesantissime segnature. La squadra della prima categoria, invece, ha un'età media di 25 anni, ma è anche esperta e talentuosa a quanto basta per manifestare la qualità tecnica del campionato. La squadra dei nostri 11, selezionata da Stefano Martellano del Messaggero Veneto, scenderà in campo martedì al Friuli contro l'Udinese con lo stesso modulo 3-4-3 scelto da Claudio Rinaldi per la formazione di promozione. Il reparto arretrato è all'insegna della concretezza e della fisicità, a cominciare dal portiere, quel Matteo Topazzini, classe 92, che si è guadagnato la nomination nelle file del Diana, passando poi da questa stagione al Ragogna. Colpisce per la sua presenza fisica, con i suoi oltre 100 kg, e in porta sa destreggiarsi per il senso di posizione e l'ottimo uso dei piedi anche in fase di impostazione e disimpegno. Nella linea A3, sulla destra, può giocare Andrea Tonizzo, classe 93, che nel teor si distingue per corsa, attenzione ed utilità, dal momento che può giocare indifferentemente sulle due fasce. In mezzo, il centrale è il 27enne Enrico Ferrante del Sevegliano Faulis. Da quattro stagioni è ormai il leader della difesa, mettendo a servizio tutta la sua presenza fisica, l'altezza e il colpo di testa. Dotti queste che contraddistinguono anche Elvis Belgrado, lo statuario difensore del maniago libero, insuperabile nel gioco aereo e spesso in gol proprio con inzuccate di qualità. A centrocampo, reparto di lotte di governo, spiccano le doti offensive dei due esterni. A destra può giocare Michele Miano, passato alla Serenissima dopo aver brillato nella Torre Annese di Bovio. Figlio nipote d'arte, con papà Massimo e lo zio Paolo, Michele ha il fiuto del gol e la facilità negli inserimenti con e senza palla. Può anche giocare punta in un tridente. Sulla fascia opposta c'è il classe 95 Davide Piazentier, passato al Pertegada dal Palazzolo. Mister Casasola lo ha impiegato anche attaccante esterno per le sue doti di tecnica e rapidità. In mezzo, sul centro-destra, troviamo Andrea Caverzan, classe 88, che a San Quirino alterna la fase di possesso a quella di interdizione. L'esperienza e la capacità di interdire appartengono soprattutto a Paolo Ziraldo, classe 85, colonna della mediana dell'Union Martignacco, bravo negli inserimenti e svelto a ruba al palla col suo piede sinistro. In attacco, i tre punteros hanno sgomitato non poco per avere questa maglia così speciale. I voti alla fine hanno premiato Nicola Scurdi, la vipera di Mattonaia, come viene chiamato a Domio, Trentenden che ha dimostrato il suo valore anche in promozione con le sue giocate rapide e ficcanti. A destra, gioca in questo attacco Andrea Rebellato, classe 87 del Camino, che ha segnato più di 100 gol in carriera con le maglie di Valvasone, Varmo, Fraibano, Gonars, fino ai 23 realizzati proprio con il Camino nella passata stagione. Altro attaccante che ha fatto il salto di qualità passando in promozione è Gianluca Biancotto. La Tarcentina sta cominciando ad apprezzare ora il ventenne andato in gol per tre giornate consecutive di recente, che è stato anche alla Buiese dove ha lasciato il segno con 15 reti, esprimendo qualità e tecnica da categorie superiori. L'allenatore che guiderà la selezione dei nostri undici di promozione e prima categoria, che Mattedì affronterà l'Udinese Primavera alla Dacia Arena Stadio Friuli, è Giulio Cesare Franco Martín. Il tecnico dell'Union Pasiano succede nell'albodoro di questo prestigioso riconoscimento a Pino Cortiula, l'anno scorso all'Elluminaco, che riuscì a motivare al meglio i ragazzi a sua disposizione, sfiorando una clamorosa rimonta nei confronti dei rampolli bianconeri guidati da Luca Mattiussi. Si può star certi che il mister dell'Union Pasiano non sarà da meno in questa circostanza, visto che sono proprio gli aspetti caratteriali quelli che caratterizzano al meglio lui e le squadre che si è ritrovato ad allenare. Basti pensare che nelle ultime tre stagioni ha ottenuto altre tante promozioni attraverso i play-off, cominciando con il portare il Cordenons dalla promozione all'eccellenza, prima di dare colpo al grande sogno dell'Union Pasiano, trascinato a un doppio salto di categoria consecutivo, trasmettendo ai suoi giocatori concetti calcistici semplici ma efficaci se assecondati dalla loro disponibilità a interpretarli senza trascurare il divertimento che deve sempre accompagnare giocatori che restano pur sempre dei dilettanti. Classe 1970, originario di Torre di Mosto, Franco Martin ha dimostrato sin dai trascorsi da calciatore i tratti del condottiero, arrivando a vincere 13 campionati nella sua esperienza agonistica in Veneto e Friuli Venezia Giulia, chiusasi come giocatore a 39 anni. L'arbitro chiamato a dirigere la partita tra i nostri undici di promozione prima categoria del Messaggero Veneto e l'Udinese Primavera del mister Luca Mattiussi è Bogdan Nicolae Sfira. L'anno scorso toccò già a lui dirigere la partita che oppose i nostri undici allo Stadio Friuli e quest'anno sarà di nuovo presente al sempre più sentito appuntamento per ricevere il riconoscimento di miglior arbitro della stagione 2015-2016. Capita appuntino dunque nella settimana nella quale si sono arraumentate le polemiche sulle direzioni arbitrali, l'indicazione di Bogdan Nicolae Sfira, classe 91 di origine romena, appartenente alla sezione di Polenone, promosso in estate alla Commissione Arbitri Interregionali, a dimostrazione che anche i fischietti vengono promossi e retrocessi a seconda delle loro qualità. Sfira, studente universitario, arbitro dal gennaio 2011, ha diretto nella passata stagione 14 partite nel campionato di eccellenza e 12 in quello di promozione con la chicca della designazione per dirigere la finale di Coppa Italia tra Versna e Flaibano. In questa stagione è già stato utilizzato in 12 occasioni, compresa la Serie A femminile. Il 20 dicembre i migliori dilettanti del Friuli Venezia Giulia vivranno il sogno di giocare una partita alla Dacia Arena Stadio Friuli. Prima del calcio d'inizio, tutti i giocatori sono stati convocati alle 11.30 del 20 dicembre al Messaggero Veneto in Viale Palmanova con l'investitura e il trasferimento allo stadio con il pranzo e il discorso dell'allenatore Giulio Cesare Franco Martin. La partita sarà trasmessa in diretta da Udinese TV che dedicherà anche uno speciale sull'evento. L'amichevole si disputa con la collaborazione di Credit Agricole Friuladria, Federcalcio regionale e Udinese Calcio oltre alla Maico che premierà anche quest'anno il migliore in campo tra i 22. MVP dei dilettanti che sarà scelto direttamente dal mister della primavera dell'Udinese Luca Mattiussi. È finita la partita a Carlino la prima finalista di Coppa Italia trofeo Aldo Meroi si giocherà il giorno della Befana come sempre con il presidente del comitato regionale della Federcalcio Hermes Canciani che ha visto che partita Hermes? Una partita vincente il primo tempo di marca sicuramente dei padroni di casa il secondo tempo invece è una bella reazione del Torris Cosa ha fatto un bel gol e poi gli ultimi minuti un po' concitati però devo dire una degna semifinale. Un po' di notizie si giocherà ovviamente il giorno della Befana attendiamo di capire chi sia la seconda finalista per capire la location avete già qualche idea oppure all'ultimo? Certamente sì abbiamo già qualche idea però logicamente è giusto attendere l'altro risultato poi convocheremo le due società e decideremo il campo dove andare a giocare la finale. C'è anche un altro appuntamento prima la partita dei nostri undici di promozione e prima categoria contro la Primavera d'Uldinese anche qui possiamo dare qualche annuncio? Sì giochiamo il 20 di dicembre ripetiamo la bellissima esperienza dello scorso anno i ragazzi praticamente verranno convocati prima allo stadio direttamente allo stadio e poi appunto faranno questa bellissima loro esperienza contro la Primavera giocando nella Dacia Arena e penso che sia un motivo di grande soddisfazione per tutto il mondo per loro ma soprattutto per tutto il mondo dei direttanti. Parlavamo dei primi 100 giorni di governo Canciani in Friuli Valencia Giulia i primi 7 come sono andati? Eh sono stati 7 giorni piuttosto tosti perché come potete immaginare abbiamo avuto l'inaugurazione degli uffici allo stadio abbiamo avuto il D-Day con il presidente Tavecchio qui soprattutto abbiamo iniziato praticamente a lavorare per quanto riguarda la sede e poi abbiamo iniziato a mettere in piedi le famose consulte che erano il fiore all'occhiello del mio programma elettorale quindi di carne al fuoco ce n'è ancora tanta e adesso praticamente cominciamo veramente a entrare nel merito degli argomenti grazie a me grazie a voi buona serata il Ceres Muzzana è la prima finalista del trofeo Diego Meroi con il presidente Zanutta soddisfazione per la finale che giocheremo senza Fabio però si dispiace veramente quell'epilogo finale lì per un qualcosa di inesistente dove è stato espulso la bandiera il Ceres Muzzana era da anni assieme che lottavamo per raggiungere questa finale e adesso ci troviamo in finale siamo soddisfattissimi siamo contenti per aver raggiunto finalmente questa finale per la prima volta nella nostra storia però dispiace veramente per il giocatore che si trova ad essere escluso da una meta che è da anni che la persegue assieme a noi vedremo come andrà a finire ovviamente parlando della partita oggi dopo un quarto d'ora eravate già 2 a 0 poi avete gestito qualche calo di tensione però insomma la fine è portata a casa che tipo di prestazione ha visto nella sua squadra ma un buon primo tempo un primo tempo che si poteva chiudere anche 3 a 0 così era un primo tempo abbastanza determinato fatto con la fame giusta vi dicendo secondo tempo giustamente gli ospiti volevano cercare di portare a casa questa finale questa finale anche loro e quindi giustamente sono venuti fuori era un risultato recuperabile il 2 a 0 e quindi nella sostanza si è si è vista una maggiore intensità da parte del Torviscosa è uscito un gol che purtroppo ha fatto riversare nella nostra metà campo tutti gli avversari secondo me la partita si poteva in qualche contropiede chiuderla se ci mettevamo un po' più di cattiveria un po' più di determinazione io reputo che il risultato sia giusto dopodiché io la vedo più dalla mia parte magari se parliamo con l'amico Midolini lui la vede che magari poteva starci il pareggio e dopo magari giocarsela ai supplementari però ripeto secondo me io sono molto soddisfatto della mia squadra soprattutto al primo tempo e sono contento finalmente di aver raggiunto una finale di Coppa Italia Calciomercato ancora vivo Presidente e chiaramente tutti dicono beh comunque a Carlino qualcosa potrebbe succedere lei che tipo di risposta dà a queste voci? No diciamo che noi siamo sempre in ascolto di quello che può essere qualche giocatore che magari potrebbe interessarci che potrebbe essere in prospettiva qualche buon giovane che sta sempre bene perché oggi i giovani scarseggiano un po' dappertutto quindi non siamo parte attiva di mercato oggi però cerchiamo di tenere le orecchie tirate se c'è qualcosa di buono da fare se lo facciamo siamo pronti Presidente in bocca al lupo ci vediamo a Sardigenai crepi il lupo e speriamo sia una bella finale siamo con il mister della gemonese Fabio Pittilino vittoria una rete a zero è bastata per portare la gemonese in finale beh sì siamo riusciti a fare la storia oggi con i miei ragazzi sono stati veramente bravi se la sono meritata perché credo che al primo tempo meritavamo qualcosina di più magari non abbiamo avuto occasioni molto limpide però la predominanza territoriale è stata netta secondo tempo ha spinto parecchio il Vesna alle cerca del pari hanno avuto un'occasione se non ricordo male con un male proprio sulla del gioco di parole però insomma direi che è la resa dei conti ce la siamo più che meritata e quindi niente andiamo a giocarci la finale contro Carlino che rimane una corazzata non abbiamo niente da perdere non siamo sfavoriti ma non per questo siamo battuti peccato solo che ci mancherà Calin per squalifica per un fallo di mano e veniale dove l'arbitro secondo me è stato un po' troppo severo però intanto ce la godiamo adesso domenica comunque abbiamo la campionata però godiamoci questa finale perché in tanti anni di storia la gemonese non c'era mai arrivata i nostri ragazzi ci hanno portato qua brava la società che mi ha costruito una buona squadra e bravi ragazzi che mi hanno portato fino a qua e naturalmente anche per quanto riguarda le statistiche una gemonese che in questa Coppa Italia non ha mai subito reti ma sì bravi cioè bene io sono un ex difensore quindi per me non prendere i gol è un motivo d'orgoglio se i ragazzi riescono a fare le prestazioni buone vinciamo 1-0 preferisco vincere 1-0 che è 5-4 io l'ho sempre detto e quindi tanto di cappello loro che se la godano e ci faranno passare delle belle feste naturalmente poi l'attenzione è già riversata verso il campionato continua la serie utile domenica un nuovo impegno naturalmente dovrai continuare a mantenere alta la concentrazione della tua formazione sì beh stasera ci godiamo questa vittoria un pensiero andrà il 6 di gennaio però insomma da domani sera ci dovremo fare lamento penseremo a Torviscosa domenica che è insomma una tappa uno snodo importante del campionato una partita molto dura e se riusciamo a fare risultati anche là saremo davvero bravi perché oggi abbiamo speso siamo con Luciano Sandrine mister del Vesna avete lottato tutto il secondo tempo per provare a recuperare la rete di svantaggio non ce l'avete fatto comunque orgoglioso della prestazione dei suoi ragazzi ma sì alla fine abbiamo fatto la partita che dovevamo fare anzi si è complicata dopo 8 minuti con l'uscita di Sasha però alla fine credo che oggi la differenza l'ha fatta l'episodio che abbiamo commesso sull'errore del gol della Gemonese dove abbiamo commesso prima un'ingenuità con potenza e poi l'infortuno del portiere però credo che nel secondo tempo abbiamo giocato prevalentemente nella metà campo della Gemonese abbiamo avuto l'occasione clamorosa con Male per pareggiare e non l'abbiamo sfruttata quindi credo che sintetizziamo la partita così fa male perdere così sicuramente perché credo che oggi non meritavamo di perdere però il calcio è questo faccio i complimenti alla Gemonese perché al di là della solidità della squadra che sapevamo gli auguro veramente di cuore di vivere quello che abbiamo vissuto noi l'anno scorso forse un po' troppi errori in fase offensiva quest'oggi ma no non è quello sicuramente l'infortunio di San Martini ci ha un po' condizionato eravamo abituati a giocare in una certa maniera ho dovuto cambiare qualcosina per far giocare di Napoli che non può fare la punta credo che abbiamo fatto bene è chiaro che era una partita che viveva su degli equilibri la Gemonese è stata brava ripeto a sfruttare credo l'occasione che ha avuto perché non mi pare che abbia avuto altre occasioni per fare gola forse un tiro in diagonale di Nardi nel primo tempo forse però credo che nel secondo tempo noi abbiamo spinto abbiamo fatto la partita che dovevamo fare c'è stata la reazione perché non ci stavamo sicuramente a perdere volevamo raggiungere per secondo anno di fila la finale c'è sfuggita e pazienza insomma alla fine credo che non abbia nulla da rimproverarci anzi ora attenzione tutta sul campionato c'è una situazione di classifica insomma da migliorare ma sì ma questo lo sapevamo noi da nell'ultimo mese abbiamo recuperato tre giocatori importantissimi per noi e quindi credo che sapevamo che avremmo fatto difficoltà in campionato sappiamo quello che ci aspetta e credo che la prestazione di oggi mi conforta da questo punto di vista perché ripeto la partita ha dimostrato che noi possiamo fare tranquillamente bene quindi credo che alla fine se giochiamo con questa intensità con questa attenzione credo che alla fine ci toglieremo presto da questa situazione Riccardo Male difensore del Vesna sui tuoi piedi c'era il pallone che poteva valere il pareggio sì intanto buonasera a tutti mi sono mangiato una grande occasione mi dispiace tantissimo per questa eliminazione ci tenevo tanto a far bene in Coppa come penso tutta la squadra e speravamo ad arrivare in finale ci siamo fermati qui ahimè pazienza riprenderemo il campionato che partita è stata? ma è stata una partita in cui sicuramente abbiamo dimostrato di essere una squadra abbastanza solida abbiamo dimostrato di essere capaci di giocare anche contro una squadra molto forte non abbiamo preso i 6 gol che abbiamo preso tre settimane fa quindi da una parte sono contento dall'altra come ho già detto non mi dispiace per la sconfitta raccontaci anche l'episodio che ha visto appunto l'errore del vostro portiere sul vantaggio della gemonese nel primo tempo cos'è successo? allora io parto dal presupposto che non sbaglia uno sbagliano tutti e undici non ho capito bene come gli sia sfuggita la palla di mano però insomma se magari io chiudo il tiro dal limite dell'area la palla non arriva al portiere se non sbagliamo a centrocampo non prendiamo contropiede se segniamo gol non prendiamo gol noi sbagliano tutti sbagliamo in undici vinciamo in undici e perdiamo in undici ora la testa naturalmente torna tutta sul campionato beh assolutamente già domenica ci aspetta il Lumignaco squadra l'abbiamo già affrontato in Coppa l'abbiamo battuti però sarà tutta un'altra storia dove può andare questo Vesna? non lo so spero più in alto possibile Marco Nardi il match winner di questa sfida tra Vesna e Gemonese hai portato i tuoi compagni di squadra la Gemonese in finale una finale che sarà storica eh dai sì era la prima finale della Gemonese quindi sono contento per questo non l'ho portata io anche se ho fatto gol perché la mia prestazione è stata un po' sotto le linee è stato merito di tutta la squadra mi ha fatto una bella partita sei riuscito comunque a sfruttare l'errore del portiere avversario e a metterla dentro? eh per fortuna sono uno che ci crede sempre quindi dai ho avuto un po' di fortuna e è andata bene così una partita comunque equilibrata voi avete creato più occasioni nel primo tempo nel secondo naturalmente sono ritornati alla carica che partita hai visto tu? nel primo tempo c'era secondo me un po' di paura da tutte e due le squadre loro arrivavano da una sconfitta contro di noi qua 6 a 1 quindi sapevamo che non era non poteva essere una partita uguale o simile c'è stata paura abbiamo avuto fortuna di sbloccarla all'ultimo dopo il secondo tempo ci siamo difesi aspettavamo una ripartenza potevo chiuderla prima io però dai 1 a 0 e va bene così basta no? avrete il tiarli smuzzano e la corazzata di fronte in questa finale che cosa ti aspetti da questo incontro e come secondo te bisognerà lavorare prepararsi al meglio? in sosta bisognerà prepararsi c'è tempo adesso pensiamo al campionato il Carlino l'abbiamo già battuto in campionato dicono ovviamente è la favorita del campionato dicono che li batti una volta è impossibile batterli due però noi ci proviamo andiamo là diamo tutto come ogni domenica e la finale è la finale può vincerla chiunque qual è il segreto di questa gemonese che è l'unica imbattuta del girone di eccellenza? il segreto è la compattezza un gruppo sereno che è una società che è presente ma lascia molto allo staff tecnico il lavoro e quindi si vive la settimana in modo sereno la squadra è unita e i risultati arrivano poi più avanti più arrivano i risultati più cresce la felicità e la voglia di continuare a stupire risotto edabile sottotitoli